Benvenuti al Collè Essential Garnier, benvenuti a Quebec. Città del patrimonio mondiale dell'UNESCO, Quebec propone agli studenti e alle loro famiglie uno stile di vita dove tutto si svolge in francese e dove le attività culturali, sportive e di divertimento sono a portata di mano. Studiare a Quebec significa scegliere di vivere in francese al 100%, di abitare in una città sicura e amichevole, ma soprattutto di imparare una lingua che ha lottato nei secoli per rimanere viva e che, malgrado le difficoltà, ha raggiunto la sua massima espressione. A parte l'hiver, la sicurità della ville. Ho molto amato questo perché qui è molto tranquillo e molto interessante di potere sentire bene. Ho molto amato questo qui a Quebec. Ho sentito quasi tutti i giorni, ma anche io faccio il mio lavoro. Ma... Ho... Il Collegio St. Chalgarnier, situato a Quebec, in Canada, è un'istituzione di insegnamento privata per ragazzi e ragazze. Fondato dai Gesuiti nel 1635, il Collegio è la scuola più vecchia dell'America del Nord. Il nostro progetto educativo e i diversi servizi che offriamo testimoniano di una visione che, pur nutrendosi da radici profonde, è risolutamente rivolto verso il futuro, verso il mondo. Conforme al suo motto, il mio scudo è la verità, e volendo formare degli uomini e delle donne per gli altri, il Collegio St. Chalgarnier si dà come missione di coltivare la passione della verità e il senso della solidarietà. Il mondo secondo Garnier è un mondo dove l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue sono affrontati in modo particolare. I nostri programmi tengono conto della dimensione affettiva dello studente e dei genitori. È per noi molto importante poter offrire un ambiente sicuro e un inquadramento rassicurante dove ogni partecipante possa stare bene, possa crescere e imparare stando a contatto con gli altri. Il mondo secondo Garnier è scoprire un popolo migliorando le proprie competenze linguistiche. La mia esperienza è stata incredibile. Io credo che è un... wow! C'è stato il miglior anno della mia vita. È un'opportunità incredibile. Tu apprendi la lingua, tu apprendi la cultura. Se tu hai l'opportunità di avere la lingua, c'è come. Il faut la profiter, al massimo. Non voglio tornare. Voglio mi ricordare di molti persone, di miei amici dell'escola e dei professori che sono davvero gentili, di mia famiglia, di accolto. Una squadra formidabile vi accoglierà e vi guiderà durante il vostro soggiorno. Il nostro responsabile degli studenti internazionali sarà sempre presente e vi aiuterà ad approfittare al massimo della vostra esperienza, sia a livello accademico, sociale e culturale. E anche tu puoi avere la confianza nella persona responsabile degli studenti internazionali. Lei o io può aiutare molto. Se hai delle questioni in francese, in spagnolo, in inglese, perché tu puoi sempre andare a un bureau e lui domandare tutto ciò che vuoi. Io sono allata quasi tutti i giorni al bureau del responsabile perché mi ha aiutato molto nelle piccole questioni a proposito dei mots in francese, della prononciazione, come se posso andare a qualche parte. E anche all'escola, con il personale, l'instituzione internazionali o un professore, sono sempre disponibili per noi. Il Collè Saint-Charles-Garnier offre diversi programmi. Un anno o un semestre in immersione francese, un soggiorno linguistico in francese a Quebec, un soggiorno linguistico in inglese a Victoria, in British Columbia, dei soggiorni scolastici su misura. A presto! A presto!